No, non avete sbagliato canali e no, noi non siamo impazziti, ma adesso con calma vi raccontiamo tutto. Ormai ci conoscete da più di dieci anni come The Italian Maker, anni in cui siamo cambiati, siamo cresciuti e siamo evoluti. Ma finalmente abbiamo trovato l'identità che più ci rappresenta. Però per portarvi tutto questo ci serviva una nuova identità più fresca e questo qui parte attraverso un rebranding totale del nostro canale e dei nostri social tramite un nuovo nome. Benvenuti su Focus! Il nuovo logo richiama il concetto di mettere a fuoco. Infatti metteremo a fuoco sul nostro canale diversi argomenti come la fotografia, il video e le immancabili recensioni come abbiamo sempre fatto. Ma il logo presenta anche al suo interno non solamente una ma ben due O, non è un errore di battitura, ma sono le due O che rappresentano i due membri del team, me e Dario, che non vedete spesso ma è sempre dietro le quinte e crea lui questi bellissimi sette illuminazioni e setta la fotocamera e rende possibile tutto questo. E in più queste due O vicine creano anche un simbolo dell'infinito. Infinito proprio come la nostra voglia di continuare a crescere, migliorare e portarvi contenuti di sempre migliore qualità qua sul canale. Insomma, Focus vuole essere un connubio tra freschezza, modernità e voglia di continua e costante crescita e miglioramento. Quindi ringraziamo a tutti voi che continuerete a seguire questo nuovo faccia nel canale e a supportarci per crescere sempre di più insieme. Quindi restate con noi per vedere nuovissimi contenuti su questo nuovo canale YouTube Focus. Grazie per la visione!